Buonasera, ben ritrovati ad un nuovo spazio dedicato all'informazione dal territorio. A Padova oggi è stato ufficialmente firmato il protocollo per dare il via alla nuova questura della città. L'appuntamento si è svolto in prefettura dove erano presenti il prefetto, il capo della polizia, il sindaco della città, presente anche il direttore dell'agenzia del demanio, oltre chiaramente anche al questore. La nuova questura sorgerà come abbiamo anticipato anche nelle scorse settimane in via Anelli, luogo per anni tristemente noto per il degrado e la pericolosità che quotidianamente metteva a dura prova Padova e i suoi cittadini. Oggi un'area abbandonata che in pochi anni sarà trasformata dando nuova vita ad un quartiere strategico della città che per anni ha davvero tanto sofferto. Le tempistiche parlano di 6-7 anni per il taglio del nastro. Il protocollo d'intesa prevede nell'accordo la cessione dell'area dell'ex caserma Prandina alla comune di Padova. Entro la fine dell'anno intanto è stato preannunciato quest'oggi gli uffici migrazione della questura che da tempo sono in sofferenza verranno trasferiti in attesa della nuova questura nel frattempo nella cittadella della Stanga. Soddisfazione è stata espressa nel mondo della sicurezza che necessita di avere spazi più ampi e idonei a servire il territorio. E adesso parliamo di un'imponente operazione di sicurezza. Sono coinvolte anche Veneto e Lombardia nell'inchiesta sul contrabbando internazionale di armi da guerra della Procura di Gorizia che ha permesso di smantellare un'organizzazione criminale balcanica. Secondo quanto si è appreso oggi alcune delle armi sarebbero state destinate alla malavita organizzata milanese mentre le vetture su cui si muovevano alcuni corrieri sono intestate a cittadini italiani residenti in Veneto. La posizione di queste persone in questo momento è al vaglio degli inquirenti. Quanto alle modalità di attraversamento dei confini sembra che raggiungessero il territorio attraverso valichi e passi di montagna. Il tragitto prevedeva poi passaggi in Italia, eventuali soste milanesi per la consegna delle armi e come ultima tappa la città di Barcellona dove era indirizzato gran parte del carico. Degli arrestati quasi tutti tra Slovenia e Croazia, due sono cittadini bosniaci intercettati in Italia. Oltre ad un corriere fermato in autostrada lo scorso 19 aprile, c'è un connazionale considerato addirittura la mente della banda. E adesso invece vi raccontiamo un episodio avvenuto qualche sera fa che aveva creato un allarme piuttosto teso all'aeroporto Marco Polo di Testerra. Parliamo dell'aeroporto di Venezia. Una coppia di italiani, o meglio una famiglia, ha invaso la pista dell'aeroporto per la paura di perdere un volo. Vi raccontiamo. Aveva paura di perdere l'aereo, così una coppia, con figli minori a seguito, ha invaso la pista dell'aeroporto Marco Polo di Testerra a Venezia. È accaduto qualche sera fa. I coniugi, con in mano i biglietti, ma in estremo ritardo, temendo di perdere il volo, hanno forzato la porta del gate 7, hanno fatto scattare l'allarme e di conseguenza tutto il piano di sicurezza che viene attivato in casi di emergenza. L'intenzione della famiglia era quella di raggiungere l'aeromobile della compagnia EasyJet, in procinto di partire con destinazione Napoli. La bravata, però, è costata 2.074 euro di multa per ogni maggiorenne, secondo la sanzione prevista dal codice della navigazione. Il dispositivo di sicurezza ha messo in moto nell'immediato Polizia di Stato con dispiegamento del personale del dispositivo di sicurezza aeroportuale e del gestore aeroportuale Save, che hanno impedito ai soggetti di raggiungere l'aereo. Ancora una giornata difficile lungo l'autostrada 4. Un incidente mortale si è verificato questa mattina tra Latisana e Porto Gruaro. A scontrarsi un furgone e una cisterna con gravissime conseguenze ha perso la vita il conducente del furgone. Le cause dovranno essere ricostruite. Mentre era presente la colonna a causa dell'incidente, si è verificato un secondo schianto tra mezzi pesanti che erano incolonnati. Sul posto sono intervenuti il personale di Autovie Venete, stradale, vigili del fuoco 118 e soccorsi meccanici per liberare la careggiata dai mezzi coinvolti nell'incidente. Iniziati questa mattina alle 8.30 gli esami di maturità per 509.307 studenti. Secondo le prime rilevazioni del MIUR il tasso di emissione all'esame è stato del 96,1%. La prima prova scritta, quella di italiano, è iniziata alle 8.30. La seconda è in calendario per domani, sempre alle 8.30. Mentre la terza prova, predisposta da ciascuna commissione, è in calendario per lunedì 25 giugno, sempre con orario di inizio 8.30. E adesso invece parliamo di clima, perché se queste sono quelle che stiamo vivendo, sono giornate calde e soleggiate, attenzione perché per venerdì è previsto un repentino cambio climatico e secondo alcuni siti di meteo c'è anche un certo allarme. Sentite. Caldo intenso in questi giorni di giugno con temperature che oltrepassano i 30 gradi. AFA e calore intenso che non danno tregua durante le ore centrali della giornata, ma venerdì è previsto l'arrivo di una perturbazione che porterà a un brusco abbassamento dei gradi. Secondo gli esperti arriveranno piogge temporali con la possibilità anche di veri e propri nubi fragi. Le previsioni sono piuttosto allarmanti, a guardare i siti delle previsioni si resta preoccupati. Leggendo quanto appare su www.ilmeteo.it si legge Estate KO, sciabolata vichinga, temporali di grandine. Insomma, parole che non lasciano buone speranze ad un clima estivo. Dal sito dell'ARPAV Veneto, invece, le previsioni indicano una perturbazione che porterà a temporali, ma senza allarmismi. Temporali a causa di una perturbazione, con aria fresca che si avvicinerà dal nord-ovest, portando temporali e un significativo calo termico. La pressione a quel punto, secondo l'ARPAV, tornerà a salire e avremo rasserenamenti. Ancora la cronaca. Quattro persone trovate in possesso di ingenti quantitativi di materiale pedopornografico sono state arrestate. Altre 18 sono indagate a piede libero in un'operazione che è stata condotta dagli agenti di polizia del compartimento della postale delle comunicazioni per la Lombardia e coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano. Numerose le perquisizioni domiciliari che sono state fatte nel corso delle indagini. Molte di queste sono state eseguite in Veneto. Denunciato per guida in stato di ebrezza il conducente di un pullman che trasportava pellegrini di ritorno da Lourdes. È successo la scorsa notte a fare il controllo una pattuglia della sezione della Polizia Stradale di Padova che ha denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebrezza un conducente polacco di un autobus. A bordo c'erano 28 pellegrini. A mezzanotte nell'ambito della campagna della Polizia di Stato dei controlli ai bus una pattuglia ha fermato il mezzo con a bordo i pellegrini slovacchi. Si trovavano anche assieme al parroco e stavano facendo rientro a casa. Gli agenti hanno fermato il mezzo a Grisignano. Nel corso del controllo l'autista ha risultato positivo all'alcol test con un tasso di 1,95 alla prima prova e 1,88 alla seconda prova. Inoltre è stato sanzionato per errata compilazione del foglio di viaggio. I pellegrini hanno potuto proseguire il loro viaggio, rientro verso casa perché a bordo c'era un secondo autista. Una notizia che arriva dal mondo di Google. Un algoritmo per calcolare la data di morte. A pensarlo fa davvero venire i brividi. Però è un appuntamento al quale si evita sempre di pensare ma sentite la tecnologia e la ricerca cosa hanno prodotto. Conoscere in anticipo la data di morte potrebbe essere uno shock. Un pensiero vicino al quale la maggioranza di noi cerca di stare distante, di non fermarsi a pensare. Fa parte della nostra mentalità, vivere come se la morte non ci appartenesse. Eppure qualcuno oggi fa fare delle riflessioni. Google potrebbe rivelarci il giorno in cui moriremo. Non si tratta di una bufala o di dati inventati a caso ma di un vero e proprio studio pubblicato su una rivista scientifica. A calcolare la data, un algoritmo sviluppato dai ricercatori della società di Mountain View che potrebbe prevedere quanto abbiamo ancora da vivere con una precisione che arriva addirittura al 95%. Già realizzato uno studio su 216.000 pazienti adulti ricoverati in ospedale per almeno 24 ore. Il risultato, pubblicato sulla rivista Nature, ha rivelato che l'algoritmo poteva prevedere con precisione il rischio di mortalità, di un nuovo ricovero in ospedale e di una eventuale degenza prolungata. A Padova è stato individuato il rapinatore che il 9 dicembre scorso aggredì assieme a dei complici una tabaccaia con negozio a Dalbignasego in provincia di Padova. La donna era stata seguita al termine della giornata lavorativa, quindi alla chiusura del negozio. Obiettivo ovviamente l'incasso. Era stata affrontata dai banditi sotto casa in un quartiere cittadino. Uno dei balordi indossava sulle mani dei calzini. La donna ne sfilò uno durante i momenti concitati del colpo e successivamente lo consegnò ai carabinieri. Gli uomini dell'arma avviarono subito delle indagini individuando il DNA del rapinatore. DNA che una volta inserito all'interno della banca dati ha dato subito un nome e un cognome. Grazie ad un lavoro certosino dei militari, l'uomo è stato individuato e arrestato. Si tratta di un residente a Bassano, di nazionalità est-europea e con precedenti. Attualmente sono ricercati i suoi complici. Ed ora parliamo di clima. Secondo le previsioni, la giornata di domani, quella di giovedì, sarà ancora con temperature elevate e con tempo chiaramente soleggiato e sereno. Come avete sentito nel corso del telegiornale dal nostro servizio, andiamo verso il venerdì, quindi verso una perturbazione che potrebbe portare anche dei nubi fragili sull'intero territorio veneto. È tutto per questa edizione. Vi ringrazio per l'attenzione. L'appuntamento è con l'opinione di Enzo Spatalino tra pochissimo. Vi auguro ancora un buon proseguimento. Grazie a tutti.